Il piacere della lettura ci porta a compiere un viaggio tra Napoli e Salerno precisamente nel XVI secolo per una ricerca enigmatica e a contempo complessa in un romanzo tutto noir ambientato durante il Rinascimento italiano, laddove troviamo intrighi di corte, omicidi, scomparse inaspettate. Tutto questo è al centro di Il Fiore di Minerva, ovvero l'ultima opera dell'apprezzatissimo scrittore Carmine Mari, oggi qui con noi per raccontarci la sua nuova fatica. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Dunque Il Fiore di Minerva, se siete d'accordo io direi di immergerci nel book trailer e poi torniamo qui in studio con te e con i nostri telespettatori di Mattina Live. Vediamolo insieme. Dunque Il Fiore di Minerva Dunque Il Fiore di Minerva Ed ecco era appunto il book trailer del Fiore di Minerva, un noir, un thriller rinascimentale che per l'appunto come abbiamo visto dall'immagine è ambientato in un periodo storico, ovvero in una precisa data, 1551, ovvero nel pieno periodo rinascimentale, laddove intrighi di corte erano molto presenti. Sì, in effetti la data è nata per caso, però poi approfondendo con gli studi mi sono reso conto che è la data che è data inizio al secolo di ferro, cioè allo scontro fra due ciltà, quella cattolica e quella luterana. Il Regno di Napoli era al centro, era una pedina fondamentale nello scacchiere europeo facendo parte dell'impero spagnolo. Napoli con la sua città e con i suoi porti e con le sue risorse erano uno stato che era strategico dal punto di vista militare e commerciale. Il fiore di Minerva è un romanzo, come dicevo, ambientato nel XVI secolo e vede come protagonista Hector dell'Estremadura, un ex conquistador di ritorno dalla Spagna, dall'India occidentale, che si mette a servizio di uno dei principi più potenti del Regno di Napoli, il barone Ferrante Sanseverino. Con il suo brigantino deve pattugliare le coste e proteggere la popolazione dalle incursioni barbaresche. Durante un giro di perlustrazione manda Piccom una nave che sembrava ostile al nostro personaggio. L'uccisione del comandante e la sparizione di alcuni documenti trascinerà a Hector in una serie di indagini che si accavaleranno con quella di un cold case che trova le ragioni nell'esodo, nella cacciata degli ebrei dalla Spagna, oltre alla misteriosa sparizione di uno scheletro e in seguito alle vicende di questa erborista, questa bellissima erborista Costanza Calenda che insegue un po' il sogno di un'accademia tutta al femminile. Questo è un po' il succo della trama. Un succo laddove appunto lo ricordavi sarà appunto il conquistador, no Hector poi ad indagare e incrocerà poi la sua vita con Costanza di cui si innamorerà. Quindi c'è anche al centro una storia d'amore, c'è questa indagine complessa, questa storia, ma soprattutto una storia personale perché Hector troverà l'occasione attraverso questa indagine complessa di indagare anche sulle proprie vicissitudini, su se stesso. Esattamente, hai colto il punto più importante. Cioè Hector è un personaggio dal passato violento, sanguinario. Si è reso, vabbè non voglio anticipare molto di quello che poi i lettori troveranno nel libro. E improvvisamente tormentato da un incubo che ricorre sempre, si accorge che forse solo attraverso l'amore e non solo attraverso le opere, ma attraverso l'amore riuscirà un po' a raggiungere la salvezza. Sarà il lettore poi a capire se Hector riuscirà o meno. Esatto, la donna che diventa strumento salvifico, no? Strumento salvifico della propria vita, che poi è un concetto che ritroviamo proprio un po' indietro di quel periodo storico perché siamo, ricordiamo, nel XVI secolo. Però c'è anche un altro tassello che sicuramente può aiutare a comprendere questo noir del rinascimentale perché c'è il fiore di Minerva. Ecco, con il nostro regista Salvatore Mondo stiamo ripercorrendo le immagini del book trailer, ma anche la copertina. Il fiore di Minerva, che dà appunto titolo alla tua opera, che significato assume in questo contesto? Beh, la scoperta è venuta un po' per caso perché studiando un po' tutto ciò che apparteneva alla tradizione della scuola medica salernitana ho scoperto che il fiore di Minerva, cioè la calendula in effetti, è il fiore utilizzato dalle mulieres salernitane, dall'erborista a partire da Trotola del Giro fino ad arrivare a Costanza Calenda, ed era il fiore dal quale si ricavavano degli oli, delle essenze, che servivano a curare le patologie tipicamente femminili, dell'apparato riproduttivo femminile. Quindi la calendula è un fiore ricco di sfumature, un fiore anche a tratti sensuali. Di Minerva perché anche il nome Minerva è legato alla dea Minerva, che era protettrice delle arti mediche nella scuola medica salernitana. E' tutto un simbologismo, è tutta una simbologia per rimandare alla cura dell'anima attraverso il fiore, in realtà si cura quelle che sono le ferite del momento. Attraverso questa ricerca di questo enigma complesso ci permette questo romanzo anche di compenetrare, ma soprattutto di conoscere un periodo molto importante della nostra storia, ma un periodo importante anche per il nostro paese. Prima facevi riferimento anche a Napoli, Napoli diventa location continua, in questo periodo storico parlavi prima appunto della lotta tra luterani e cattolici, e in questo Napoli ben si inserisce in questo binomio. Napoli era senza dubbio la capitale, a parte Milano, forse Roma per quello che rappresentava il papato, il cattolicesimo, l'universalismo del cattolicesimo, Napoli era comunque una capitale culturale. Ricordo che a quei tempi, intorno al 1530, a Napoli c'era il famoso, o meglio riconosciuto, consenso di Juan de Valdés, che era un religioso che provava a riformare all'interno la chiesa cattolica, all'interno della chiesa stessa. Tutta una serie di personaggi culturali a quei tempi avevano fatto di Napoli il centro proprio spirituale della vita del paese. E' vero, perché non a caso ricordiamo che sia Napoli ma anche Salerno erano due località ben contese, sia dai francesi che dagli spagnoli. Infatti, il regno di Napoli è stato fin dall'inizio nelle mire del re di Francia. Francesco I e Carlo V si odiavano a morte. I francesi hanno più volte tentato di assaltare Napoli e il regno del sud per mettere le mani sull'Italia e sul Gran Ducato di Milano. In questo si inserisce la figura un po' cavallerisca, tardo rinascimentale di Ferrante Sanseverino, che dedicherà tutta la sua vita a un progetto politico di opposizione, essendo egli un normanno di origine normanno, quindi filofrancese. E all'interno del romanzo di Fiore di Minerva il principe aleggia, aleggia, ma si può già comprendere quale possa essere poi lo sviluppo stesso del romanzo avendo a mente queste note storiche. Non solo il Fiore di Minerva è ambientato in questo noir rinascimentale, questo thriller rinascimentale, perché ricordiamo che l'opera segue il grande successo di Hotel d'Angleterre, che ha ottenuto il premio giallo al centro. 2021, dimostrazione di quanto i romanzi di base thriller abbiano e sortiscano un grande fascino sui lettori. Sì, Hotel d'Angleterre anche con mia sorpresa ha riscosso un po' di successo con il premio giallo al centro di rete, il premio nazionale diretto da Pier Giorgio Pulisci. Insomma, è stata una bella soddisfazione. Il romanzo storico condito però di un pathos legato al thriller, ma il thriller all'interno del romanzo storico è soltanto un pretesto, un escamotage per rendere la storia vincente, per poter parlare del territorio e delle nostre radici. Questo è un po' il senso che io cerco di dare ai miei scritti, la storia, la grande storia. Che deve insegnare sempre, dovrebbe insegnare. Che fa da cornice all'interno della piccola storia dei personaggi, perché ognuno di noi è il frutto della storia che ognuno si porta dietro. Esatto, che si porta e dovrebbe poi avere l'onere e l'onore di tramandare. Intanto ricordiamo anche questo altro aspetto. Se possiamo, lo chiedo gentilmente alla nostra regia, Salvatore Mondo, di rimandare la copertina Il fiore di Minerva, eccola qui, di Carmine Mari. Carmine, che cosa ti aspetti del lettore? E quale consiglio per un approccio ideale, per comprenderne poi a pie nel senso del romanzo? Io credo che il romanzo sia stato scritto con un linguaggio piuttosto accessibile, non c'è niente di complesso. Anzi, dai primi riscontri che ho avuto, sembra che la tensione, la trama trascina il lettore fino alla fine. E quindi si deve aspettare sicuramente un romanzo pieno di colpi di scena, molta tensione, con dialoghi belli stretti, e soprattutto fare attenzione alla trama, che all'inizio può ingannare. Può deviare, invece no. deviare, sembra quasi che sia quella il filo sottile che invece improvvisamente il lettore o, insomma, si troverà di fronte a quella principale legata al cold case, è tutta una situazione, soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile, che a quell'epoca era abbastanza, insomma... Non vi era per nulla parità di genere neanche in quel periodo storico, diciamolo. È la scelta di fare poi... Di valorizzare, costanza, quale figura salvifica restituisce dignità, ma soprattutto riscatta dignitosamente quel periodo storico. Grazie davvero, grazie a Carmine Mari per essere stato con noi, per averci presentato il Fiore di Minerva, che sicuramente leggeremo, un'opera, un thriller imperdibile, perché ci permette di calarci un periodo storico, quel XVI secolo, un periodo da conoscere, ma soprattutto in quegli intrighi di corte che sicuramente possono restituirci qualche forma di insegnamento. Grazie, restate con Mattina Live, pubblicità.